Ingegnere Mordà, il gruppo di lavoro che lei coordina all'interno della sezione norme e certificazioni ha redatto un documento per la valutazione del rischio sismico nei luoghi di lavoro. Ne parlerete al congresso? Sì, ne parleremo al congresso. Verranno esposte intanto le normative incidenti che portano alla necessità di valutazione di questo documento e di questo dato e esporremo quali sono le linee guida che tracciano un percorso per poter arrivare a un dato compiuto a livello di documenti di valutazione del rischio, contemplando anche queste tematiche abbastanza articolate che riguardano il rischio sismico. Quale attenzione è necessario avere sui luoghi di lavoro per quanto riguarda il rischio sismico? Le attenzioni normalmente richieste ad attore di lavoro per legge sono il punto di partenza. Poi dal punto di vista operativo è un po' il tema del documento che lavora su più livelli e che quindi traccia un percorso che può essere utile e pianificato all'interno delle dinamiche aziendali. Questo è un po' oggetto specifico di quel documento. Un documento che quindi si rivolge a quale partea dei professionisti? Si rivolge per lo più agli specialisti di sicurezza. Non devono necessariamente avere un taglio strettamente strutturale, benché i temi nascano nell'ambito di una specializzazione molto verticale sul tema, ma lo scopo e la fatica posta dai componenti del gruppo di lavoro è stata rivolta a rendere semplice il documento, benché rigoroso anche col supporto del Comitato Scientifico di Isi che ha indirizzato gran parte delle tematiche. Un documento che punta a essere punto di riferimento? Un documento che deve diventare utile, sicuramente sarà utile per colmare quella che in questo momento con la metrica dello strutturista è un gap che si rileva nell'ambito della gestione dei DVR con riferimento al profilo del rischio sismico. Un riferimento forse un po' un tema in questo momento diciamo troppo elevato, ma sicuramente uno strumento comodo e operativo.